e che tu è l'ultimo, sei la nuve, ma quanto si chi è ufficiale, dici qualcosa Mario, il DJ Time, Fargetto, Albertino, Volella, Prezioso, al Palazzo Congressi, a Capodanno, signori non ve lo potete perdere per nessun motivo al mondo, colpo di scema, incredibile, Capodanno con Fargetto e DJ Time, io ti lascio e tu presenti quest'altro ragazzetto che cos'ho, tutti, ciao Mario, aspetta un applauso a Dottor Vintage, allora il ragazzetto di cui, la quale parlava il nostro Dottor Vintage, è il nostro resident DJ e voglio un applauso speciale per Mr. Ravalt, accanto, e c'è qualcuno che batte le mani, e c'è qualcuno che batte le mani, e voglio tutte le mani, lo facciamo pure no?